E la provincia dell'Aquila ed in particolare la zona peligna a preoccupare di più regione e autorità sanitarie rispetto all'emergenza coronavirus. Nel giorno in cui in Abruzzo sono stati eseguiti 2.134 tamponi e registrati 34 nuovi casi di cui uno su un bambino di 3 anni, 20 dei quali localizzati in provincia dell'Aquila, la buona notizia è che a Lucoli il sindaco Walter Chiappini ha revocato la zona rossa istituita giovedì scorso con ordinanza comunale nella frazione di Casa Maina a seguito del verificarsi di un mini focolaio emerso a cavallo del ponte di Ferragosto. La decisione di annullare prima del tempo l'ordinanza è dipesa dal fatto che lo screening a tappeto condotto sugli abitanti della frazione del comune dell'Entroterra Aquilano situato alle porte di Campo Felice ha fatto emergere a fronte di 146 tamponi effettuati 5 casi di positività che andando a sommarsi a quelli già tracciati nei giorni scorsi hanno portato a 15 il totale complessivo delle persone contagiate. La situazione continuerà ad essere monitorata tant'è che tra dieci giorni la procedura dei test a tappeto verrà ripetuta sul residente dimoranti nella frazione. Il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio cerca di rassicurare la popolazione rispetto al fatto che la regione e le ASL stanno vigilando e che i tamponi vengono fatti in maniera preventiva. Tra feste private, luoghi di lavoro, rientri da vacanze che hanno prodotto dei focolai sono stati tempestivamente circoscritti e individuati, stiamo risalendo persona dopo persona, contatto dopo contatto a tutti i soggetti che hanno avuto la possibilità, la sventura magari appunto di potersi essere contagiati, mentre in passato a gran parte delle persone a cui oggi stiamo facendo i tamponi. In passato non avremmo potuto farglieli perché non avevamo laboratori in numero sufficiente, non avevamo la capacità produttiva di tamponi per farlo e quindi di fatto il tampone veniva preso soltanto sulle persone che manifestavano sintomi e che arrivavano addirittura in ospedale. Molti rimanevano malati nelle loro case o continuavano a circolare finché non sono stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutte le attività e quindi questi cosiddetti asintomatici che inizialmente si ritenevano neanche contagiosi andavano in giro e contagiavano.